perché devi scegliere questa agenzia per vendere la tua casa un saluto intanto da stefano boscarato piacere di conoscerti se vuoi vendere o comprare casa la domanda che ti frulla in testa è perché dovrei scegliere proprio questa agenzia e non un'altra domanda correttissima hai ragione ti capisco ci conosciamo solo da pochi secondi ovviamente scherzi a parte hai presente la situazione del mercato immobiliare vero sai sicuramente che oggi e sarà così per molti anni ancora ci sono tante più case in vendita che gente disposta a comprarle questa è la verità allora come far sì che scelgono la tua e non un'altra simile non vuoi essere costretto a svendela vero questo è la verità ti faccio una domanda che auto possiedi se dovessi cambiare l'auto probabilmente faresti il giro delle concessionarie per capire quanto ti valutano il tuo usato giusto sarebbe comodo se ci fosse un sistema di ritiro dell'usato anche per le case sei d'accordo porteresti in agenzia le chiavi della tua vecchia casa e usciresti con quelle della nuova senza doverti preoccupare di nulla in realtà purtroppo questo servizio non esiste e le altre aziende ti propongono di parcheggiare la tua casa in un enorme smisurato parcheggio in mezzo ad altre migliaia 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 di case in vendita dicendoti le persone per cercare casa si recano in questo parcheggio se vuoi vendere casa devi essere qui sai qual è i portali immobiliari dai li conosci bene si chiama immobiliari.it casa.it eccetera eccetera enormi parcheggi pieni di case da vendere in vendute tu guardi quella smisurata distesa di case e la gente che ti propone di parcheggiare la tua là in fondo persa tra centinaia di altre guarda di fianco alla tua ce n'è una più giovane più bella più grande e costa uguale questa è la verità la venderai forse aiuterai quel proprietario a vendere la sua non credi nel frattempo altre case saranno messe in vendita e altre ancora passano i mesi e l'unica cosa che ti viene proposta è abbassiamo il prezzo tagliamo svendiamo se questa non è la prospettiva che desideri svendere casa immagine invece che l'entrata del parcheggio tutti tutti la le passano davanti vi sia una enorme piattaforma rialzata che risplende illuminata da decine di fari mentre gira su se stessa con sombra la tua casa tirata lucido bella come se dovesse andare ad una festa passando tutti la noteranno presentato com'è nel suo massimo splendore pensa che bello ecco noi presentiamo la tua casa così in modo completamente diverso dalle altre agenzie sfruttando la potenza di video emozionali e la velocità dei social network penso che li conoscerai bene prendiamo la tua casa e la mettiamo sotto i riflettori sotto la luce non è più mescolato in mezzo alle altre è la protagonista e tutti in città la vedranno anche tu compri casa grazie alle emozioni vero il prezzo importante certo ma se ti piace davvero quella casa se sai che quella giusta se la senti già tua sei disposto a diventire qualcosa in più per averla è vero o no come tutte le cose se invece non c'è emozione vincerà solo chi fa il prezzo più basso cioè chi svende ecco perché devi scegliere questa agenzia siamo l'agenzia che utilizza il video marketing immobiliare sai cos'è una strategia innovativa per far emergere la tua casa dal marasma di casi in vendita in questo momento perché venga vista nel suo massimo splendore da tutti coloro che possono essere interessati a comprarla nel giro di pochissimo tempo questo fa la differenza così la venderai velocemente al miglior prezzo che il mercato può offrire in questo momento chiamaci e ti mostreremo cosa sappiamo fare anche per casa tua buona vendita